Come fai? Allora, la squad più bella di sempre, Casatiello, Dark Shield, Stronsoloniano e Jemon Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Maronna Mi stava cadendo il joystick Che reazione Oh, comunque Se vi dovete sfogliare in mia presenza, chiamatemi Eccomi, sono già nudo Ok, meno male Sei, 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 sei